Sembra aver intrapreso una buona andatura la processo Bissa a Teramo sui reati legati al crack Curti di Pietro che vede tra gli imputati principali il noto commercialista terramano Carmine Tancredi, socio dell'ex governatore Chiodi e Strano ai Fatti, tenuto nella processo nonostante la richiesta dei suoi legali, rigettata dal Tribunale, di annullare il capo di imputazione o in alternativa regredire il processo alla fase preliminare. Dopo un avvio ad intermittenza i giudici hanno già calendarizzato le udienze per ascoltare i tanti testimoni in lista. Già nella prossima udienza, quella dell'8 maggio, ne sono in elenco ben 26. L'udienza di oggi è stata caratterizzata dopo l'inserimento nel fascicolo del CD della Procura sulle erogatorie chieste in Inghilterra e Svizzera dall'audizione di un test. La segretaria nel periodo 2007-2009 della Sirius, una delle tante società sotto la lente della Procura, la testa ha confermato di avere svolto dei lavori anche per un'altra società, l'AMG. Già condannati in primo grado per un crack da 25 milioni di euro, con sentenza impugnata in appello, Di Pietro e Curti devono rispondere in questo processo del reato di evasione fiscale. Ma il PM, Irene Scordamaglia, ha chiesto ed ottenuto un nuovo procedimento, soprattutto perché nella fase investigativa erano emerse delle responsabilità nei confronti di Carmine Tancredi, che, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo importante nella distrazione dei fondi e nel loro trasferimento all'estero, in particolare Cipro, in società delle quali il noto commercialista terramano sarebbe stato amministratore di fatto. Ed è per questo che si ipotizza il reato di concorso in bancarotta. La cifra si aggira intorno ai 700 mila euro. Prossime due udienze, l'8 e il 22 maggio, entro la pausa estiva alla sentenza.